Buongiorno e benvenuti in questo breve webinar dove parleremo di caselle condivise e caselle nominali. Quando si usa una casella condivisa o quando invece è consigliato usare una casella nominale? Giusto per allinearci sulle terminologie, con casella condivisa intendo la classica infochiocciola, magari monitorata a più persone, con caselle nominali tendo a dire Anna Chiocciola, quindi quella che vede e gestisce la singola persona. Allora è una questione di relazione, la decisione non deve essere legata ad aspetti informativi, ma deve essere legata ad aspetti di relazione. Ricordatevi che oggi sempre più ogni cliente si sente particolare, vuole essere conosciuto, non vuole raccontare la sua storia nuovamente ad ogni persona dell'azienda. Il cliente vuole sentirsi a casa, vuole essere in condizione di avere la fiducia di un rapporto che si deve instaurare di tipo autentico, quindi se mi viene detto che questo è il miglior prezzo, deve essere il miglior prezzo. Se torniamo un po' indietro a quello che accadeva tanti anni fa nel rapporto del venditore, del commerciale, il venditore instaurava con il cliente un rapporto di fiducia. Oggi l'azienda che ha accelerato e reso più frenetico il business deve trovarsi a prendere queste decisioni anche all'interno della propria organizzazione, non solo per quanto riguarda la rete vendita. Stiamo parlando di modello client care, ovvero l'azienda sempre più, e questo io lo consiglio in termini organizzativi tenta di avere una figura che si relaziona con quello specifico cliente la quale si occupa a lei di andare a recuperare le informazioni relative agli altri processi. Per poter ottenere questo risultato importante bisogna naturalmente orientarsi alla gestione di caselle nominali e non alla gestione di caselle condivise. Tuttavia anche in questa fase scelta è importante avere entrambi cioè le caselle condivise servono comunque e sono necessarie per le richieste di potenziali clienti per gestire altri processi che non sono legati al cliente ma processi legati ad alcuni fornitori alla ricezione di curriculum. Ci sono tantissime casistiche per cui è più importante o è più comodo avere una casella condivisa anziché una casella nominale o diretta. Qual è il processo corretto? Il processo corretto è che ad esempio le richieste di potenziali clienti arrivino su una casella condivisa è importante che questa casella condivisa sia gestita o sia visualizzata, sia monitorata da più utenti ma è altrettanto importante che quando uno la prende in carico inizi poi a scambiare con il cliente tramite la propria casella delle informazioni per andare a costruire una relazione con quel cliente non mi sto riferendo a logiche di GDPR che comunque rientrano in questa visione di cui abbiamo parlato poc'anzi ma stiamo parlando all'importanza di capire chi ha preso in carico questa richiesta tracciare le informazioni scambiate. Non è banale ricevere delle mail su info, parlare poi con la propria casella personale riuscendo a tracciare delle informazioni che possano anche poi garantire la continuità se Anna manca dobbiamo avere un sistema che ci permetta di mettere in pista qualcun altro nei giorni in cui Anna manca avendo tracciate le informazioni senza che magari questo qualcun altro entri nella casella di Anna che questo invece non è corretto dal punto di vista anche della privacy del nuovo GDPR quindi questo è l'obiettivo che si vuole raggiungere e se oltre a un processo corretto lo vogliamo anche efficiente quando Anna prende in carico quella determinata richiesta che inizierà a lavorare lei sarebbe anche opportuno che sparisse l'attenzione delle altre persone, è inutile che in quattro leggano tutte le mail che arrivano su info quando Anna ha preso in carico quella particolare richiesta da un potenziale cliente magari perché no, gli altri non si trovano più la notifica di arrivo di nuova mail ma si possono concentrare invece su quelle che non sono già state prese in carico questo è un processo efficiente dove i processi vengono condivisi quindi nel momento in cui Anna deve portare e interpellare Luca può condividergli il processo senza mettere Luca in coppia conoscenza su tutte le comunicazioni che scambia che fa diventare tutto effettivamente complesso e difficilmente gestibile e in più il sistema deve permettere una collaborazione efficiente quindi quando Anna ha bisogno di Luca devono potersi confrontare in maniera facile e veloce senza creare confusione bene, allora quello che vi serve per arrivare a gestire questo tipo di processo che riguarda qualunque tipo di organizzazione è una soluzione che si chiama Tueppi che nasce appositamente per permettervi di fare quello che vi ho appena descritto che è il processo dal punto di vista relazionale corretto senza avere alcun tipo di confusione o di disagi nel non capire chi deve fare cosa cosa otterrete? 25% in più di produttività garantito notamente meno confusione, sarà chiaro che ha fatto cosa? un migliore rapporto con la clientela per via del marketing relazionale che si instaura e se volete vedere qualche cliente che è riuscito ad ottenere risultati ben oltre le aspettative non vi riesce altro che andare su questo link a presto